Allora, durante questo evento, che si tratterà di una battle di freestyle, quindi una sfida a colpi di rime, di improvvisazione di alcuni giovani toscani emergenti nel mondo del freestyle, ci saranno dei personaggi particolari, sì, perché saranno, diciamo, senza dubbio i giudici, i personaggi più rilevanti in questo contesto, insomma, in questo evento, che saranno In Giso, Odam e Skinny Raze, che è l'ultimo vincitore del contest di vita da vicolo del 2019, e anche i giovani emergenti di San Giovanni Valdarno, che si esibiranno in live, facendo, diciamo, conoscere la propria musica e la propria forma di espressione artistica attraverso le loro canzoni. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare, a vedere e a toccare con mano quelle che sono le realtà dei giovani di oggi, cantanti e facenti parti del mondo del rap, soprattutto in una location che a San Giovanni Valdarno ha visto nascere, appunto, il movimento rap, il movimento artistico riguardante il pop, proprio alla stazione ceramica, che è il sottopasso, diciamo, della stazione di San Giovanni Valdarno.